Ciao ragazzi, benvenuti in questo primo video, in questa prima lezione dove andremo a capire, a studiare le basi di internet, che cos'è, come funziona e cercheremo di dare delle definizioni per potervi aiutare anche in un'eventuale interrogazione da parte del vostro insegnante di sistemi e reti perché è questa la materia di cui appunto stiamo parlando. Prima di definire che cos'è internet, io andrei a vedere un attimino che cosa, come è nato, come è disposta la rete per capire. Dopo la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti erano terrorizzati dal fatto che essendo in guerra fredda con la Russia, la Russia potesse sferare degli attacchi nucleari nel continente americano e potesse mettere fuori uso le comunicazioni tra una città e l'altra avendo loro distanze enormi. Come funziona? Funziona che, ad esempio, la loro sede militare in Seattle, ipotizzando che volesse comunicare con la sede militare di Miami, doveva farlo dopo la seconda guerra mondiale, la tecnologia era basata in questo modo, che attraverso una serie di uffici centrali, probabilmente disposti anche nelle maggiori città, c'era proprio un collegamento fisico tra un cavo e l'altro per poter arrivare fisicamente fino a Miami. La paura degli Stati Uniti era quella che se la Russia avesse messo fuori uso uno di questi nodi centrali, non c'era alcun modo di comunicare tra un nodo e l'altro e quindi non si poteva arrivare a Miami. Io da Seattle a Miami non riuscivo più a comunicare. Pertanto che cosa si sono inventati i militari statunitensi attraverso i loro ingegneri? Una serie di nodi che non fossero più dipendenti l'uno dall'altro, ma che fossero indipendenti l'uno dall'altro e che fossero disposti e che ce ne fossero tantissimi nel paese in maniera tale che se per caso la Russia avesse avuto la malsana idea di attaccare gli Stati Uniti con un'arma di tipo nucleare avesse fatto fuori una serie di nodi e questi non fossero più utilizzabili. Ecco che si poteva comunque comunicare in vari modi. Internet è questa roba qua, ok? Adesso ovviamente per comunicare come lo conosciamo noi Internet oggi si comunica in questo modo attraverso una suite di protocolli che diciamo rispondono al nome di TCP-IP. Questi sono i protocolli principali che fanno funzionare Internet per come lo conosciamo oggi. Transfer Control Protocol, Internet Protocol. Ci sono anche altri protocolli che servono all'utilizzo di Internet per come lo conosciamo noi, però diciamo che il sistema TCP-IP è il sistema corrente in uso. Tutta questa roba qui che noi vediamo nei libri di testo la vediamo come una nuvoletta, ok? Dove dentro c'è scritto Internet, dove dentro c'è scritto Internet, ok? Internet però non è una nuvola come possiamo immaginare noi, è questa roba qui. È importante dire anche un'altra cosa, tra un continente e l'altro non è che ci si collega attraverso i satelliti, ci si collega attraverso dei cavi veri e propri che sono passati al di sotto degli oceani, ok? Sono passati anche cavi ottici subito dopo la nascita di questa tecnologia per via della velocità, quindi i continenti tranne forse mi pare l'Antartide non sono collegati, cioè sono collegati tutti attraverso questo sistema tranne l'Antartide e il motivo per cui non si usano i satelliti è la questione di velocità, la velocità del cavo supera di gran lunga quella dei satelliti per una serie di motivi che a noi in questo momento non interessa approfondire. Per cui quando Internet è visualizzato anche nei libri di testo, in questo modo, e c'è scritto Internet, noi dobbiamo sapere che è tutta quella serie di nodi che abbiamo visto prima, per cui se volessimo definire che cos'è Internet, lo possiamo fare attraverso queste parole semplici ma veritiere, cioè Internet è una rete di telecomunicazioni ad accesso pubblico reso possibile da una suite di protocolli di rete, chiamato TCP-IP. Tutti quei nodi che abbiamo visto prima all'interno riescono a rendere possibile la comunicazione di Internet attraverso questi due protocolli insieme ad altri, ma questi sono la base principale del funzionamento. Ci sono due tipi generalmente di connessione che noi possiamo studiare anche nei libri di testo oppure possiamo avere anche l'esperienza di utilizzare veramente, e cioè il client server e il peer-to-peer. Sono due sistemi di connessione sostanzialmente diversi perché quando si parla di client server si parla di un client che è un computer privato, il mio cellulare, il mio tablet, il mio computer, una roba di questo tipo, comunica, richiede un servizio ad un server centrale, ad esempio il server di Google. Il server di Google offre un servizio al client, quindi il client chiede un servizio, il server offre un servizio. Per quanto riguarda invece il peer-to-peer, nel peer-to-peer si sconvolge un attimino questo ordine di cose, nel senso che nel peer-to-peer ogni singolo client A, B, C, D diventa anche server, quindi non c'è nessuno di questi client che chiede un servizio e esclusivamente un altro offre un servizio. Ogni singolo nodo offre e richiede un servizio, pertanto c'è una sorta, è paritario il sistema di connessione peer-to-peer. Ogni singolo nodo è sia client che server. Ad esempio Bitcoin funziona in questo modo qua, perché Bitcoin non ha un server centrale che memorizzi dati, transazioni e qualsiasi altra cosa. La maggior parte delle connessioni avviene in questo modo, client-server, se vi collegate a Google c'è un server, se vi collegate alla CNN c'è un server, se vi collegate alla vostra banca c'è un server, se vi collegate qualsiasi, la maggior parte delle connessioni sono client, sono di tipo client-server. Ok, i due sistemi hanno dei pregi, dei difetti, ad esempio questo sistema qui, che è il più utilizzato, ha il difetto del collo di bottiglia, perché se molti client contemporaneamente richiedono un servizio, succede che il server potrebbe andare in difficoltà e causare rallentamenti e andare anche in panne. Recentemente con il problema del coronavirus, l'abbiamo visto anche con il server dell'Inps, che ha cominciato a dare di matto, proprio per il numero esagerato di accessi contemporanei, ha addirittura creato una sorta di confusione negli accessi, per cui l'utente A vedeva le credenzialità dell'utente B in macello. Nel sistema peer-to-peer questo non succede, perché se questo è congestionato si possono chiedere informazioni a questo, se questo è congestionato si possono chiedere informazioni a questo. È un sistema diverso, ovviamente un servizio come l'Inps così non funziona, un servizio come la banca così non funziona, e funzionano quasi tutti in modo client-server. L'ultima cosa che volevo dirvi a proposito di Internet riguarda la sicurezza, sono cose, concetti basilari che adesso noi andiamo solamente a descrivere e che magari vedremo meglio nelle prossime lezioni. Abbiamo detto appunto che Internet funziona con una serie di nodi, interconnessi tra loro, ad accesso pubblico, ok? Ogni singolo nodo è sensibile ad un eventuale attacco di un hacker. Se un hacker attacca questo nodo, gli hacker che attaccano un nodo così si chiamano man in the middle, sono persone che attaccano un punto e riescono a dipadronirsi dei dati che sono stati spediti da me e che io vorrei che li leggesse solo il mio datore di lavoro, solo il mio dipendente o quello che è. Per ovviare a questo tipo di problema sono stati messi in piedi delle tecnologie per cercare di evitare il più possibile furti di dati. Uno dei sistemi più conosciuti è la VPN, la Virtual Private Network, che crea una sorta di tunnel, ok? In maniera tale che questo tunnel ha una criptazione per cui è difficile da perforare. Ma una volta perforato i dati sono comunque criptati, ok? Per cui l'hacker deve fare una doppia difficoltà, senza tenere conto del fatto, ma ne parleremo, che nel momento in cui un hacker attacca il tunnel, in qualsiasi punto, il tunnel ha un sistema di rilevamento degli attacchi per cui si distrugge e crea un'altra strada, ok? Per cui l'hacker deve cambiare punto di attacco. Bene, queste erano proprio le basi, spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate avuto modo di capire delle cose, perché magari ho avuto personalmente modo di riscontrare che ci sono degli insegnanti che a volte spiegano queste cose in maniera molto tecnica e io spero di avervi fatto capire con parole più semplici che cos'è e come funziona. Ripeto, certamente non è una lezione universitaria, ma per le scuole superiori spiegazioni di questo tipo vanno più, 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 più che bene. Ciao ragazzi, alla prossima!